Eccoci qui dal Margherita Caffè, parliamo di moda, parliamo di moda, dopo la vittoria inciso breve di Max Verstappen a Suzuka, il solito leone che non lascia niente ai suoi rivali, ai suoi luci, a tornare alla vittoria, parliamo di moda, come vi vestite per gli eventi mondani, i modaioli, per le serate, per le occasioni, per un primo appuntamento, per un qualcosa di importante, una comunione, per gli uomini si predilige camicia e giacca, cravatta per chi gli piace, molto nero, nero, insomma, in pera. Che dire, per le donne sono queste magliette, insomma, spesso anche scolate, senza che ci siano, con cappotti lunghi, vari colori, anche se, come ho detto, il nero, insomma, predomina, vari colori, non necessariamente camicia firmata, anche jeans e camicia all'americana, insomma, con maglietta sotto, maglietta e camicia, insomma, moda, scarpe, insomma, metà ginnastica comode, oppure stivali di cuoio, oppure mocassini di cuoio, io porto quelli di camuscio, che mi piacciono morbidi, quelli, insomma, di cuoio, tagliano su, con la moda italiana, Rosso Valentino, Giorgio Armani, marchi famosi in tutto il mondo, Ferrari, anche se oggi, insomma, tutto made in Cina, Comunque, la moda, come vi vestite, come vi piace vestirvi, vi piace vestir bene, comodo, cosa vi piace, cosa vi mettete per apportamenti speciali, eventi, insomma, chic, fatemi sapere, interagite, la moda, la parte di Zotis, vi saluto, passi e chiude, invitandovi, come sempre, a seguirlo su Caserta Cheste. Vostra locomotiva, riparte.